E' la seconda parte del video film, un po' come stiamo. Carlotto, io ho detto, iniziamo l'obiettivo. Vediamo un po' cosa ci riserva la storia. Grazie a tutti. Oh, la sento pimpante, mi fa piacere. Mi dispiace, la dovete mettere a lui in qua. La sto chiamando perché si presenta una splendida opportunità per lei. Lei conoscesse il tuo mirtillo di uni, ma dico bene? Non ho mai sentito. Non capisco come sono preferito, che durante il viaggio di studio ho incontrato gli studenti. Sì, lo so, presidente. Ok, quindi Erasmus. Vabbè, dobbiamo andare all'accademia. Facciamo un check momentare della squadra perché questa gente... Vabbè, rimettiamo... No, sì, c'era il raid da fare. Settiamo il nostro amicone qua. Penso che siamo più o meno... Ma sì, siamo loro. Sì, 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 sì. Con quest'altro... Non aspetto, devo mettere... Faccio il deposito. Tra l'altro, dovremmo recuperare dal... Dal pokeportale della roba. Tipo... La Mega Ball... Ma non lo faremo. Hola! Come va? Pericleps. Vediamo la cosa. Ok, cosa c'è là? È possibile che io non l'abbiamo mai vista. E poi, qui, mi prendo in giro. Voila. Ok, cosa c'è? C'è un sacco del fuoco. Sì, è così qua. Sì, è così qua. Ok. Mettiamolo qua. Tra l'altro la live, qua si vede, si vede, è più o meno, sì. Possiamo andare tutto a posto. Allora. Corriamo. A scoprire... Questo. Dai. Gurkha. La tua faccia è nuova. Rinfrescavi un attimo la mia raccolti chiave. Giusto, per questo non la ricordo. Questo dovrebbe dire che possiamo andare, no? Cari testa avendo problemi, guardi questa cosa. Un momento. Chi è? Chi è? Clever. Ma se anche tu valli, convendi? Cosa? Senza l'obbligo. Che fosse così davanti agli studenti. In ogni modo hanno usato un accordo che sono vestiti in ufficio. E' maledetto. E' un'altra cosa. Mi senterò. Inoltre, sono ancora vestiti con vestiti in quell'altro posto, figurati. Piuttosto ripetono, a chiedere, rispettare il progetto, e forse... ... il preside, questa è la cosa prima. Eh, adesso sono all'estero, abbiamo ancora detto così, preside, no beh. Non mi ricordo quando l'ho visto sinceramente, va bene. Perché va proprio lui? Beh, siamo a campione. Non ci ricordo, è a posto. Ok. L'ubbra, sì sì. E quindi? Vabbè, andiamo, mettiamo lì. L'abbiamo fatto già tutto. E poi si diventa. E il capo, e poi si diventa. Un, due, ora, devo togliere questo. Certo che sì. Lavoro buon viaggio. Eh, aspiriamo. Quando vuoi partire fai un fischio. Eh, no. Guarda, mi cambia un attimo. Non mi fa scaldare qui. Non volevo la parte di fronte. Ok. No, siamo in inverno. Siamo... ... gli tasti che sono abituato... ... male. ... le scarpe... ... tutto potremmo mettermi... ... il fumo vestito... ... non mi ricordo che lo hanno messo in realtà. Tre bello. Orribile. ... se lo togliamo... ... cosa tolgo? Toglilo, per favore. ... ... devo fare le capelli. Tremendo... Allora... ... Sì, perché non cambiano i capelli, però sono questi, ma sì, tutto da andare. Sì, sono dell'area a zero. Parte 2, il disco Indaco. Tadà! Tadà! C'è un Toshik. E' un'altra scuola. Va bene. Mezzo a mare. Non so, non c'abbia le filtrazioni. Sono le entrate, sono taccuola. Andiamo. Non è finita. Che esplosione di blu è? Dai! Che cosa ti posso dire? Perché è sott'acqua, signore? Con occhi molto storti. Perché è collegata all'impiazza di Ottomarino dedicata allo studio delle risorse naturali. Sì. Ciao. Bello. Mi piace. Se abbiamo ospiti, sono io? Ospite. Tu palesemente folletto. Quegli tizi hanno la stessa animazione a sinistra laggiù. Cazzo. Che coglione. Non hai preso la lingua eh? Comunque già pensi qui perché non spieghi più come funziona la nostra scuola? Eh sì. Vuoi fare cazzi tua? Eh no, no, non ti sei fatto i cazzi tua. E ora ti tocca. Dai, andiamo. Va bene. Devi farti. Ahah. Ci voglia ha fatto colpo. Perfetto. Allora proseguiamo su. Quanto lunga questa cosa. Lei il telefono va bene. Vediamo l'entrata su. Ok. Ok. Questa è l'entrata. Questa è lì. Questa è la centrale, un aspetto a sfide unice e altri 20. Questa è il tempo può essere tutto questo bene, ok? Questa è la botta sicuro. Anche perché se non stare sul tappo tutto il tempo... Cos'è? A volte poi non si stare a cristallizzo. Incredibile. Ah però. si dimmi tutto e non te lo dico oddio dai su ok va beh il capo può essere 3 geni non so si 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 bella notte non è che il calcio non ha fatto niente, non ha mancavo il valletto è lì e andiamo a scoprire l'infiltazione che aveva fatto male lo scopriremo bastardo ma perché io sono più lento siamo già paralizzati siamo più lenti nel forno si sta tutto stronzato ti ammazzo che vuoi che devo tirar fuori il prossimo eh mettiamo lui dai probabilmente colpirò più tardi mi manco anche con lui perché facciamo finta che vabbè non ci stavo contando molto più in realtà un sacchiotto si guarda è beccato con un colpo non è mi hai sbagliato ma non hai neanche usato il pokemon giusto buongiorno stepnap ah ah non non importa apriamo un altro giorno mi hai dato l'uniforme mi hai dato l'uniforme vabbè metteremo l'uniforme che ti dovi no devo prendere i capelli tremendo non 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 cosa faccio scusa bravissimo più capelli vediamo andiamo bioterraneo non è che ho cominciato a skippare parti è semplicemente la camera da arrivare un po' di cose l'avevo già spiegata al trailer quindi non ha senso tergiversare ok ok quanto è grande che noi iniziamo da qua sembra piccolino come posto in realtà mi trigger un po' il fatto che ci siano quelle linee che separano no no da nulla dov'è in realtà possiamo già andare qua è un po' una fagata ah no no possiamo continuiamo qua non so non so qua dovete mettere il campo su cosa un po' del culo non so non so non so non so non so non so non così invidia il bioterraneo questo è un po' del mare grazie a piuette e bla 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 ok un pazzo psicopatico Savana ok qua abbiamo la costa e altri posti una piccola morte via, non mi scusa, una piccola gara, una parpaldea, per bocca, e lo spero di riferirsi, perfetto, sono stati messi moltissimi, la mia te qui, sicuro, per te, quello che mi cura sui scendi, boh, c'è una stavola, la pesa un po' di scelicoli, ok, dobbiamo parlare con i tizi di, non ha cosina, ok, era male, mi sarà fatta, comunque, non hai più conflitto, no, c'erano solo le morte, non lo trovo una cosa molto sicura, sinceramente, però, non lo sa neanche lui, come al solito, ah, quindi se Rea sa, Rea, io non l'ho andato, vai, lezione al settore costa, presunto, dovremmo andare, su Pungo, andiamo su, qui lo so, perfetto, facciamo già, ma ora, 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 non dirai di non andare ancora, no, perfetto, molto simpatico il ragazzo, che grande camminata l'hai fatto, va bene, ma, tu che c'è? ah, mio, ecco perché avevi il cagnolino, c'è riconosciuta, l'avete già visto da qualche parte, sono io un coglione, l'ita, vabbè, dai, qualche mese, cosa? bene, bene, no, no, non lo farò mai, chi vuole quel growlite, qual è il suo problema? fantastico, ok, dimmi, cosa è successo? vuoi che io completi il Pokédex, vero? va bene, due scelte, tollerò, perfetto, chissà cosa dovremmo fare, allora, ho detto la costa, che è qua giù, la missione è qua, ho sbagliato il tasto, posso usare il bel mipone, perfetto, non mi ricordo se lì ho, intanto andiamo, sentiamo un po' di roba, il Tavos, questo deve averlo, come l'hanno dato il, Pokédex, eccolo qua, sbagliato, niente, già lì ho cominciato, tanti, vabbè, chi fa 342, in realtà, ci sono di starter, che li abbiamo fatti, faffici, fargli salire tutti in fondo, l'ho messo, sì, sì. Ulbix, Sandrio, come per cui l'hanno messo qua, guarda. E quindi danno fastidio ai punti esclamati. Comunque dai, ci sta, qua non capisco cosa ci deve essere, tra in teoria, i 5 che non ho catturato. Ma, ok, ti fa vedere, la fare posto, ma questa cosa? Ho dovuto capire, la missione secondaria, quindi, la facciamo dopo, in tempo di raggiungere dei santo popolo. Lo faremo off-screen. Ok, allora, la lezione sarà giù, ovviamente, perché ci sono alcuni bruttissimi in mezzo. ... 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 pokémon settore costami ecco di cui tutti i simplici voli noi voglio però loro vogliono la versione a vola di qualcuno ma io sinceramente non riesco a trovare o vado nel bioterrarium del ghiaccio dove trovare vulpix e cosom lo visti nel pokédex io ti lascio andare non ho bisogno di versioni differenti per facciamo finta che c'è una mappa non ce lo fa fare e vabbè qua c'è il ghiaccio quindi andiamo verso il ghiaccio eccoci qua settore che c'hai ma io adesso ho sbloccato la sbagliato altrimenti ho giocato all xbox sto invertendo i tasti come se non ci fossero domani ho sbloccato il volo lì perfetto il volo anche qua giù si sembrerebbe vabbè andiamo a cercare le versioni regionali dei simpatici senza affrontare il mio c'è un quillfish e la vola l'hanno ricreato qua bastardi tu no tu no tu penso di non averti quindi sto cercando e tu dici potresti guardare nel pokédex a quel punto dove si trovano alla fine li hai visti per forza perchè hai tirato da un po' così però andiamo sulla punta troviamo un morso lo salutiamo e lo ingeriamo apriamo il pokédex perchè sennò veramente allora pulpix fammi vedere l'abitat per favore non si sa bastardo un po' comunque che pulpix dell'altra versione quindi il settore ghiaccia in basso quindi al sud andiamo ricordo un po' leggermente quella di Arceus poco 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 se loro volevano che mi facessi ta 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 e arrivare qua sicuro ora a terra ora a terra non lo ok quello colo ci piace questo po' ok che è la zona del ghiaccio ok ho pensato a questo oggetto tu mi hai visto vieni con me bravissimo e poi quindi possiamo andare a rompere il cazzo adesso ho trovato, ho trovato ho investito un pontiquadro no, non glielo diamo devo mettere in squadra non è tanto da tornare là c'è anche cosa ho visto mare questi oh questo no box altamente faccio così c'è un gato vaffa culo ma potevo sceglierlo vabbè c'è un potevo d'accia duro con acciaio sì, per forza sì, per un collegio non ti devi lamentare dimmi ricreatività ok ok bravissimo ok creatività ecco intanto lo scorderò chi è ora? ci sei? sì sì è 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 un po' di spiaggia intanto viviamo tutti tutti spavola con l'acqua ehi c'era anche qua il coglione vedi cattura però nel frattempo ho aggiornato un'applicazione che uso come pokédex così almeno dopo cercare i mancanti ... 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 parte fatto scambio qua ma questi non so se ce lo metterli a posto facciamo così tocchi a riloggi qui ci vencerò si per ora per te tu già ti avevo quindi rotta si vedi che già c'eri il salvataggio dopo un'oretta è utile cerchiamola simpaticone, probabilmente ci aspetta su sembra di averla vista aspetta lei, taglieremo che sincron non è poi di Yu-Gi-Oh chi vuoi? ora no per favore almeno se vorriamo torniamo qua subito continuo a non sapere dove guardare le missioni aspetta un attimo che vuoi che vuoi che vuoi che vuoi ma adesso ho fatto il suo fatturo salve Un bel peo da filare, ma in che senso, parlerà di suo fratello, che è impazzito, impazzitissimo. Sì. Oh, va bene, ciao. Video di... Mi raccompa di classe, va bene. Non so per quattro, comunque. Vai te. Un quel che ho pagato per arrivare qui. Vabbè, facciamo la gara, dai. Ovviamente io sono sempre il naso tappato quando ho queste live. Hai il doppio? Beh, sì. Dove essere tutto così, sì. Facciamo almeno prima, dopo di una serie. Bene, quindi vuol dire che... Lui. Sopra su lui. E poi... Lama su di quest'altro. Vabbè, dove va? Non ho visto il livello. Mi sembra 70, qua. Molto se tagliare che fa within. C'è un'espaus. Roce ma allora. È una nuova scola da una delle spandazioni. Vabbè, c'è un'espaus. Non c'è un'espaus. Non c'è un'espaus. Non, non c'è un'espaus. Non c'è un'espaus. Non c'è un'espaus. Ahia! La propria potenza è quello che ci sta a loro. Questo lo cambiamo. Forza lui, gli facciamo vedere, un po' che non l'aveva visto, mi pare. Saru Ledge fa di nuovo lama su Tukano. Eppure io l'ho super abbassata lavorando al costo del gioco. Così va meglio? Purtroppo? Perché? In realtà l'avevo fatta, ma sono io lo stronzo che parlava a questa voce. In realtà... Che l'ho tirata fuori sinistra. Allora... Forza un'area. Che l'ho da? Che l'ho da super efficace. Bella lama. Aspetta, allora facciamo il contrario. Vediamo quanto gli fa, forse non era quell'altro. No, c'è della Crystallizia, eh sì, tipo ASMR, se no io, eccomi. L'acqua, terra che è stato in erba, non vuoi che gli stiamo per fare una mossa poco, no il bastardo resiste, è più impegnativo, bene, bene, vai, per cui doveva andarsi. Che vuoi di paralizzate, che è sta storia? Un po' di forza a ruvare, lama di rimorso, non apri la bacca, quindi dovremmo fargli comunque bene. E quindi, come va? Tutto bene? Non è andata, eh, lo so, non succede mai. Ecco, io gli avrei dato tipo acqua, lo so, facciate. No, non l'ho visto, Riri, fanno un logo dove lo cercare. Cazzatissimo. Eh sì, lo vediamo chi ho il taglio, non lo so lo scrivo. Vino, cioè, Sibel Cristo. Cazzatissimo, comunque. E che c'è l'altro? Presentaci tu. Aris. Perché c'hai quest'idea, Aris? Ci sto. Lo era. Grazie, guardate i risultati. Questo invece mi dica. Perchè? Dobbiamo fermarlo. Vediamo se c'è un clip, va bene. Non ho molta voglia, però mettiamo su. Silenzio. No. No. Eccoci arrivati. Eccoci arrivati. Da questa parte ero un bel po', ok? Che stanzetta. Allora. Sì. Vabbè. Cap della Lega. Perfetto. Dove è venuto a tutto il club. Cos'è Club Lega? L'ultima domanda. C'è c'è il boy. Adesso ci picchiamo. Lemi. Lemi. Ovvero il sistema di classifica ai studenti in base. Quindi devo picchiare la gente. Allora. Quattro levi. Questa è il boy. Il boy. No, non è proprio il boy. No, non è proprio il bambino. C'è il boy. No, non è proprio il bambino. Non è proprio il bambino. Bisogna bene. Sì. 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 rubro, certo, no, mi ha detto anche lui, e quindi, sì ma come salgo, contando dei punti è la metà stanza, ah ok, non li voglio, aspetta, vabbè, dona va bene, grazie a donazione, ma come riscerco gli stili, catturamoleto, allora, qui quindi catturamoleto nel mondo, ho i tuoi vestiti, bene, perfetto, ah, gelosa, calmati da, certo, ma io, lo stile che mi diceva, come lo emetto, troppe cose, vabbè dai, diamo, che, insomiglia leggermente a quella del paldea, comunque, ci sta visando di camere bene, invece c'è una cosa, è l'unico creativo, ah, ma ce lo sa di lui o di noi, ok, si, 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 traveri belle, certo, chiamiamola così, ciao a conto, se no, si, si, dai, perfetto, la me, come l'altra mezza, l'hanno reschinnata, si, sediamoci, la prima volta, fidati il vecchio aris, va bene, comodo, vedo che ci cambiamo, sei forte comodo, giusto, blablabla, sembra bella se il studiante programma diventasse il primo classificato, è certo, così, agendo, mi riesco a sfidarmi, vai, oh, il campione, se no, è chiuso per 4, ciao, surprise, tutto, tutto, l'altra mi impettita quella ragione comunque, lui sicuramente si perché vuole, le dice di nuovo, e quell'altro dice si perché ci deve fare il culo quando non ce lo farà, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha, fino a tutte, non ce l'ha, che vuole, bello ma etc. perfetto, bellissimo. e vabbè, comunque, cazzatissimo, ragazzo, eh vabbè, vabbè succede quindi cosa devo fare intanto c'ho tutti i vestiti ha detto a parte quelle della tuta dai lo zero carino come celebrità no mi piaceva di più quella col gatto ma lo schifo dai la tuta è già bella te lo voglio andare non lo so è l'entrata ho parlato la tizia ok poteva girarmi comunque vorrei scrivermi campiure dimmi tranquillo lo farò speriamo nel senso sennò non è divertente è stato realtissimo sì sì va bene quindi è stato più carino andare in giro a picchiare gli altri e vedere la nostra superiorità è bene dobbiamo pensare come battere lì l'unica cosa che dobbiamo fare oh sì mi giochi nooo io non uso la mappa ma devo andare dove? devo sfidare i 4 minuti c'è anche prima dov'è? facciamo un rapier per favore andiamo a vedere la mia andiamo a vedere la mia vabbè vabbè andiamo tipo subito da vabbè andiamo a vedere la mia vabbè andiamo a vedere la mia pericolosissima comunque se qui c'è letteralmente mezza step bar può prendere fuoco qua questa maana che è tutto secco vabbè andiamo a vedere la mia che sta a gratis bene attenzietà allora dov'è? ecco ecco ok sì cosa vuoi fare? perché devo pagare ciao ciao quindi qui è per il matese ce l'ho capito contrattare ok ma si piccantissimo allora non penso di volere tipo tu masciutto crudo e olio d'oliva si parla ti batterò sauté 3 non mi ricordo sauté non mi ricordo Perchè ha resistito? Perchè ha resistito? un uomo per la politica scordi acqua post Pettacolo fuori, so. Come in. Oh no. Non c'era bisogno, però grazie. Io non so cosa si fa. Ok, quindi devo prendere da lei. Dai, lo diamo a lui e lui ci dà altri ingredienti. Vediamo. Sciogliamo, o no? Slektro, quello fortale. Tanto buttiamo giù il campro un po' e l'amade riporso. È andata a bere. Deve avere evitazione forse, ma non l'abbiamo rischiata. Dio già, con un anguio ancoso. Pensavo che se fosse un po' con un patata, no? Perfetto. Tu vuole il salato. Ci può lasciare un'occasione crudo? Non mi serve... Io non so. Dobbiamo sentire lui. Ehm... 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 Voglio... uova aceto non ce l'ho questa cosa lo scambio con il sorriso vuol dire uova bollite chi cazzo c'era l'uova bollite non ce l'ho questa cosa non ce l'ho questa cosa non ce l'ho non ce l'ho questa cosa oh no dobbiamo avanzarlo di nuovo non ce l'ho questa cosa allora che ingredienti abbiamo la salsa e il giapalegno tira cipolla 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 aceto oliva e uova bollita cipolla 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 c considerando quel che so, continuo tutto e vaffanculo ehm, si facciamo bene spalegno, tutto avanti salzo, cioè non me questi altri non sono necessari, forse si apriamo così non sono sicuro, ma proviamo non sono sicuro, non sono sicuro, non sono sicuro, non sono sicuro, ma proviamo La salsa non l'ho già messa di base. Signor Barino, se non lo mangio prima il nostro... di Raidon. C'è da sei? Oh no. Affanculo. No, tu sei scemo. Io non ti risfido da capo i cretini. Non ti rispido da capo i cretini. Non ti rispido da capo. C'era un tizio che ci stava parlando prima. Ci vuole sapere il segreto. Non ti rispido da capo i cretini. Non era il segreto che volevo però va bene. Non ti rispido da capo i cretini. 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 è un bel logger pone in campo lo facciamo giarmi dai e poi ho letto di nuovo, che è l'altro fuori scatto questo è quello che mi chiede dai dai qualche fa mazzarello ok team rocciole ecco forza oh no perché sempre qui ecco 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 non voglio riaffrontare il tizio che devo di essere pronto si ma tu cosa devi dire cosa c'è dentro perchè io non posso andare avanti cosi ok su di lei che devo giudato tutto c'è la sera però la piccola pensavo di dover a meno che ovviamente non ci sia stato il problema della magari è caduto quel giapalegno e l'ha segnato come fuori a parte che prepararlo mi triggera perché non posso metterli nella direzione che io vorrei ok 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 dal nome, Piero. Abbiamo un volante. Chi ve lo saranno? 77. Facciamo Il palletto su lui. I tecnici sono molto efficaci. Andiamo a mettere il mio Pokémon. Mi ammazzo io. Via che ero. Ammazzalo. Dai. Facciamo. No. Un po' di odio. Facciamo. ecco io vorrò quindi è tutto un po' si colpisce mi sono sbagliato però vabbè con una bacca abito verso l'erbo eh eh sì ma io ero pronto a pulire sotto un po' con prima l'erbo è lo è lo è lo gioco questo ah Oh No Laba Blu Jump forza Echiamo un patata Qua senso Tanta Tanta Dai E Facciamo abbastanza male Bravissimo Adesso un po' come me Magmortal, ok Sto pensando come fare Allora facciamo lo spettro tuffo su Magmortal E Un nuovo Pulsar su Plastica Tanto ricristallizza Magmortal Ah no? E 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 Autonoma Giaci strumenti Fai una foto un po' conservati come inter nuota Ok Aspetta devo andare al banco io dove? Tu E 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 sicuramente parliamo ok sì, devi però dimmi tasti così, rimangio nel dubbio ok bene quindi momentaneamente avremo un volum stick sinistro su, quota scendi, cambia direzione ok iniziamo su che siamo a due ore e il gioco ancora è finito, incredibile volo contro il tempo dai grazie 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 Perfetto, l'altro terremoto sarebbe stato problematico per servire le giuste. Tanto gli abbiamo dato l'oggetto anche decente, che non gli fa niente. Vai! E il schermo è andato. Anche lui del fuoco farà male. E Rengi Plus. Mi sembra se lo psico. Facciamo un libero balletto sempre per ascizzarci. Ah, maledetto. Mi piace no. E l'ha ridotti ma non ha buona stanza. Ehm, lo sapevo. Una volta lo ha... Pregato. Che avanzi tu? Bastarda. Aspetta tu, poi gli fa male questa cosa bugata. Perfetto lo sai. Sai. Sire. Oh, augerpond. Vai augerpond. Usiamo tipo un po'. Oh no. Anzi. Perfetto. Ah non. Ehm. Anzi. 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 vorrebbe salvarsi dalle botte cazzo sull'erba roccia maledetto oh oh aia ando rispetto al lupo che si risbatte dalla protezione l'ho fatto la predict bravo che parla, dai, bravo l'ho fatto e non l'ho fatto il 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 entro dire il 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 è bravo no se effettivamente ci fa fare prima la lega mirtillo poi il resto della storia sarei quasi per dividere poi il video che dà questo e quell'altro vediamo un attimo il resto e ovviamente la cosa secondaria con una signorina molto simpatica probabilmente ci manderà a prendere terracchione e quell'altro cosa sei tu? una missione secondaria? no allora noi dovremo vedere anche lotto autonoma e vabbè manderemo un po' comunque a momento sono morti dov'è? in realtà se ci chiedono 50 ogni volta tranquillamente abbiamo il coso allora prossimo cultivo l'abbiamo già segnata sì dai dobbiamo prenderli proprio muoviti per favore ok qui o no dai se sbaglio dovrò combattere cos'è? domanda chiedemi dove le guance devo indicare dove il bagazzino elettricità del culo dai io penso le le tende? no l'ultima parte come radar come? a a fa go non ci ai trukati da Eh, devo guardargli il culo, quello è un marchio. Quello no, deve essere lui, no, eh, non si girano. Andiamo ad esclusione, non lo fa. Ah, ok, si è sbagliato volte. Ma non mi faceva vedere l'altra tazza del coso? Se non sbaglio, ho il simbolo sotto. Allora, il bicchiere è uva. Allora, non mi faceva. Allora. 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 4 dai Spero guardate i tuoi soldi Allora Ho cambiato a parte Perché Sì Quello a destra aveva un marchio Oh no Mi pareva lui Piuttosto combatto Tante cose non posso provare nessuno Cosa A parte Tento del cazzo Tento del cazzo Wow Cioè è molto tipo sfida Delle isole di Anola Togliamo la piazza Ah sì dai Mi avrai dato vita Is there Dai Sceglie cose tipo orecchie da elfo O letto Che si pare Allora Con la testa rendiamo fuoco Dai Con la testa Con la testa Gli potrei votare Fare Su Va Iniziamo a fare Grazie Credizio Ho resistito Brava Il coggetto Non gli fa molto No Ok No Non è un problema e lui li facciamo la lama ecco si, ho fatto malissimo ok adesso, l'altro ti direte per fare il casino con il microfono, perché c'è un microfono diverso che è attaccato alla faccia, quindi si sente sentissimo quando respiro ok, di meglio non posso metterlo è così ma non penso perché ce ne manca la barba e quindi fa casino tra di sé c'è marino? probabilmente farà la mega lei e la terra di salitazione lei matigia c'è un bel terremoto ma ammazzo questo bomba c'è, c'è marino e invece a te un spettrotuffo su suobro bastardo è più veloce, potevo stare terremoto grande tazzetta tazzetta se lui c'è quindi il prossimo passaggio è alto e che attacca con quell'altro primo ecco perché ho sbagliato che? penso che ho sbagliato dato che ho sbagliato ah è vivo e sei cosa che ho sbagliato avuto e io la procura Non faiore in cultura, ho sbagliato prima. Folletto profamale al drago, non abbiamo dei folletti in squadra, però abbiamo forza un'area diversa luna. Maledetto. Eh vabbè dai. Ma che vuole? No, è rispravvissuto, c'è qualcosa con il nostro? Bacca? Anzi, che rimane, scusa, mi rimane uno solo. C'è anche lo schermo di luce, ecce di Catrice. Non so che l'abbiamo usato. C'è la cadrilla. A terra o un letto? Un letto? Un resto? Un letto? Mi toglie anche il resto di TGTV. La terra da tutto al culo gli fa male. Un letto? Un letto? Un letto? Sì. Un letto? Un letto? Sì. Ci vuole... Sperba... Manda lui. il fatto vi toglie il tipo ecco perchè prendiamo pure uno bastardo poche poi comunque esplode sempre io non so dai e che te sei andato questo è un po' di difficoltà ce l'ho messa la battaglia effettivamente non abbiamo niente con le mosse acciaio ma come di là non avremmo niente di mosse folletto c'è luce lunare ma hanno dei pokemon per contrastare il problema tipo l'eper in veleno c'è quello dai ben selfie dai ben selfie lei però la vita gli era ridata i suoi che è vero che c'è come roba come romanz davila metti a mania motion ok che l'altro l'asso è tornato ma che sono tuoi allora quindi se dobbiamo combattere lui la nostra prima meta è tanto settiamo dove sta in mezzo a ghiaccio ma il pazziarello qui c'eravamo già passate questo vago vago ricordo vabbè io ero le cosi aspetta puoi stare su ma non volevo combattere che fatica volevo guardargli il coso svevotato che combattessero da soli vabbè almeno ho qualcosa da fare gol scorsi scorsi e riricurus grazie a tutti grazie a tutti c'è basto Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 sta anche per così non guadagna la debolezza al ghiaccio e al drago del drago basta che lo devo battere tre persone a lui colette si vuole scuola formato a casa vediamo credo per essere tutti interna l'ottanta dove portare le mosse che gli ho dato sinceramente a lui ti serve la pietra cucciolo ok comunque piaccio c'è una cosa che dovrebbe fare abbastanza male costituzza spada ma non la facciamo molto a caso in realtà questa squadra quindi da quanta potenza è formata da di più l'esperienza benissimo benissimo sto per a quelli che è un tipo con livello di certe non so se avranno dei pokemon molto a caso io ci stiamo focalizzando sul fatto che sia di tipo drago e quindi penso o spero avranno dei pokemon un pochimaregati non lo so rocky però c'è sicuro anche io non mi ricordo cosa gli fa male a questi il gioco lo sa no su lui io penso che è canon flash su bastion è più veloce ecco da scoppio non avrebbe avuto effetto allora l'acciaio gli fa male alla roccia bene questa cosa ci piace fatta ma sì questa cosa stiamo sempre usando la stessa massa acciaio quindi ok qui tutta l'addon dopo questo che lo evolviamo in qualunque sia il metodo in quello dopo l'addon c'è dove insegnare il tizio lo vedremo arcià lo donno tipo dove te ghiaccio interessante due acciaio le dubbio cazzo quella di drago cazzo quella di drago cazzo quella di drago io quello lo conosco perchè abbiamo una squadra intera quindi vortex e cazzo dragarti e no noi gli facciamo un cazzo bene aia no 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 si concentriamoci sul farmale a uno maledizione vabbè no no ok quindi ghiaccio non ci fa malissimo noi guarda dove ho un colt expalla su di un Mentre tu... Ecco, non flash. Va a saperlo prima. Va a saperlo... ...prima... Non lo fai. Vai. E' il prossimo giugnato. Questa messaggio è nato. Ho visto un Pokémon, non due. Trocate. Fai i piedi retro, quindi di conseguenza. Un Golvusca dovrebbe fargli abbastanza male. Intanto... Devoliamoli con questo. Bene. 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 Que cara di fiesa se mi spaggia. Bene. Non penso sia utile questa cosa. Facciamogli questo giusto per vedere di congelarlo. E' un braga artigli. Sicuramente un po', vabbè. hai un po', vabbè. ... Perfetto, bellissimo. Quasi quasi io sono oltre a loro, tizio. Pegg. Beh, quasi quasi. Quindi, mi dici che posso cambiare squadra, per favore, perché... No. Ho rimetto la mia. È una questione di... Infatti che la squadra non è viva, però... Lo vi metto qua, per ricordarmi che siete la squadra della prova che... Tipo, me ti ho mai usato i prove. Stiamo per andare contro... E ti voglio davanti... Insieme a te... Dai. Cuidado. Io, bro. Sì. Speriamo, vado bene, perché sennò qua... A parte che mi so che devi evicare, nel frattempo. Sì. 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 Si inizia male. Se sì. Sì. Scatto. No. ok bravo pulso ok oh no eh questo faceva male lo sapevo ok te lo metto in tenno allora quindi io ti dirai in realtà l'ama da remorso e trovo pulso arsoflagon ci sto pensando che i primi dei riconoscano la terra andrò a vedere qui tra qualche troppo vita e e e e e e e e un 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 Togliamo il ritorno problematico. No, cosa fa? Niente. Non fa niente. Va. È chiaro comunque come possa essere questa la squadra più forte se quell'altra c'è i folletti. Però, perché l'arcialo donno magari gli fa malissimo. Su l'ultimo Pokémon. No, il ghiaccio mi sembra stupido anche perché se io non vorrei sacrificare... Trevo acciaio. Se facciamo questo. Sì. Sì, sì. È proprio brutto. Vabbè. Che figuraccia. Cazzo di ridi. Vabbè. Contento lui. È stata una data più bella. Contato il Club Lega. Guarda che sconfitta. Tu che è andato specialmente, vero? Sì. Facciamoci una foto e andiamo a combattere... Mister Simpatia. Cosa mi dai? Se ne va. È tornato. Ah, era per fare la gag. Eh, vabbè. Andiamo dalla cosa. Un'altra cosa. Anche. Vabbè. All'altra cosa. All'altra cosa. Allora, osserviamo, ovviamente mi stanno chiamando in questo momento, sì, sì, arrivo. Allora, osserviamo. Allora, osserviamo. Allora, osserviamo. Allora, osserviamo. Allora, osserviamo. Allora, osserviamo. La trentina, sì. Questa. Musica è tutta scomparsa, boh. Allora, osserviamo. In realtà, io davanti metterei Duffy Fork perché non sappiamo cosa abbiamo davanti. Di conseguenza possiamo usare lui come, tra virgolette, vittima sacrificale. Io. Musica. 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 No, ne vado Che voglio salvare Tanto sarebbe divertente Tira i joggerpon così, tipo Ehi Tanto sarebbe Salve Come va Eltre che mi guardi così Ho buttato sudore per poter essere qui oggi Solo per un unico scopo Sconfiggerti qui In questo preciso istante Vabbè, vediamo Ok Cazzo c'è una carina Ok Abbiamo fatto quasi bene Eccoci Piove c'è il terreno elettrico La domanda è Starà settando il campo per dopo Intanto Un bel mega calcio Chi preoccupa effettivamente di più Dragonite Dragonite perché Senza qualcosa di volante Su Su Il nostro amico Già L'amichetto ci fa male Vai Che ci fa Forca Cazzo Beh Fatti cazzi tu Vuoi che Continua Tutti Siamo Metriato Il Porygon Così Cazzo Porygon Una tripletta Forse Vabbè Raga Gli faccio un Ibero balletto Intanto ci vuolta giù Duffy Folk Mentre un bel Fulbiscatto Su Polited Perché E Acqua Bastardo Lo salverà Non lo salverà Non lo salverà Perché terreno elettrico E la pioggia Gli fa molto di più Quindi Ganini ridotti Non abbastanza E mi sfida Era più Cioè Trovo molto più complicato Il monotipo Perché se non hai La squadra preparata Per il monotipo è finita Cosa possiamo tirare adesso? Quello tira le cose elettriche Facciamo lui Lui senza pietà comunque Non mi ricordo se Beh Forza Lunare Gli tiriamo a Porygon Che faceva riflesso La esistenza di attacchi fisici Che faceva riflesso Sicuramente Dovrebbe essere Di tipo Speciale Forza Lunare Che da forza Lunare Si Era un salura Aia Questa Quella c'è una bandana No Un Ciroar Interessante Molto ignorante Come cosa Però carino Però carino Hanno messo gli starter Un po' tutti Beh allora Un Gioforza Sul Ciroar E' un Drago E' un Drago Pulsar Su Crismar Non effetto Cazzo giusto No Che detto Che farà? Tram tu mani Ma porca Inbagliatissimo Più lo strunzo io E' tirami l'ultimo Pokemon Per favore Dai Il Drago Oh Allora L'ultima evoluzione del coso Carino Mi aspettavo Più teste In realtà Ma forse Sbucano da quei cuoricini Che ci sono intorno Magari C'ha qualche Bossa speciale Facciamo così No In realtà Andrò a colsarsi i Drappol Perché dovrebbe essere Di tipo Drago Il mese è passato Era inutile Ora sono cambiato E cambierò ancora Di rivoluzione Di rivoluzione Senta di tipo Lotta Con questa mossa Vittoria sarà mia Che fa? Ci coltella Il rego laser Cosa fa il rego laser? Scusa Non è acceso un leggendario Oh no l'elettricità È notta Quindi direi A lui sarebbe ignorantissimo Non tiraglielo Fincazza male Ce lo ammazza Ma sì L'avevo fatto incazzare tantissimo Siamo delle verde comunque Ah bastardo Sei incazzatissimo Sì comunque c'ha 1,2,3,4,5,6,7,3 Sists E si Dovina chi è il campione adesso Ohohohof He He Oppsì Ora sclererà male Com'è possibile perché Non è così che dove andare Che lotta infucata Se è stato davvero fatto tutti e due C'è sempre il momento Vabbè comunque Cioè uno me l'ha buttato giù Ha fatto meglio Quella di bolletto Bella lotta Un vero peccato per il nostro campione Ma forse deve dire Ex campione Vai Così diamo proprio il colpo finale Di quelli che impazzisce male Ora sclera e ammazza tutti C'è fuori una pistola Per fatto fratello Guarda il tuo campione è tutto tuo Quindi prima non ce la presco È tutto tuo Così Ascolta Riven Ti sembra stato detto che non avrebbero riuscito a batterti Ma Spero che potremo finalmente tornare a divertirci insieme Come ai vecchi tempi Voler vincere è importante È chiaro Tutti puntiamo una vittoria Ma impuntarsi Fino a scavarsi la posta Con le mani È uno spettacolo troppo triste Quindi che dici di provare insieme? Ne erderò Cosa? Non perderò La prossima volta vincerò io Ve la farò vedere Vedere tutti Tutto a posto Che c'è io Io Ai 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 Scusa per l'interruzione Allora Vorremmo iniziare a fare i complimenti È stata una notte incomunabile Tuttavia È una situazione un po' delicata Facciamo un attimo Fermi interlocale Sembra ovvio Il nuovo campione Ora anche a capo del Club Lega Però non è uno studente Quindi fa un casino Però tutti i problemi L'infinità di prox Giusto Il campione super 4 E di conseguenza Piro spende la posizione Vabbè Rimane Riven Ragazzi Non me ne frega un cazzo Che fai? Riven Ti do dan Questo è l'annuncio Riven Aris Fubra Infine Kiknik Studenti Bla 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 Rhea I suoi ospiti Vi aspettano Oh no Andiamo all'aula di 1 Tu 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 Ha risbattato Per niente Senti poi Kiknik vai tu Vabbè Andiamo Ci penso di accompagnare Riven A questo Dovranno portarmelo in spalla Che carretto Tanto Per le gambe Tanto alla fine Allora andiamo all'aula 1 Di Direi di concludere qui il video E con questo La prima parte Della seconda parte Del DLC Chiamato Disco Indaco Perché Così almeno Almeno Diciamo la La saga Della Lega Virtillo L'abbiamo fatta Così abbiamo una seconda parte Solo su Quello che viene ora Che dovrebbe essere Il leggendario Magari non verrà Lunga Come ora Trevore qualcosa Ma meglio per voi Che dovete guardarlo Anorme Eventualmente Cazzeggeremo un attimino Ma che in base al tempo Di cattura qualche poco Non variamo Detto questo è tutto Ricordatevi di iscrivervi al canale Se il video vi è piaciuto Mettete un like Commentate Su che squadra Avete usato Per combattere Il signore Lidremo Se avete usato Quella che avete usato Per i tre coglioni Oppure no Inoltre Se vi piace Pokémon Abbiamo molti altri video Di Pokémon La serie principale Con Chinanzon E Eccetera Anche gioco di carte Noi Ci vediamo al prossimo video Ciao